Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The On Underhead Oggi parleremo di uno dei progetti in cui erano in corso di cui vi ho parlato in tutto questo periodo Ragazzi, che dire, questo progetto è molto importante per alcuni youtuber come me Noi abbiamo creato, o almeno io, ho avuto questa idea di creare una collaborazione barra gruppo Teoricamente è un gruppo in cui ci saranno delle collaborazioni o community come si preferisce chiamarlo alla fine Faremo delle cose insieme Cosa voglio dirvi di ciò? Ragazzi, questo gruppo si chiama The Ascent Group Praticamente siamo alcuni youtuber adesso, in questo momento E attualmente siamo tre persone che lavorano in questo gruppo Cosa si fa in questo gruppo? In modo semplice e chiaro Noi faremo delle collaborazioni insieme Lavoreremo insieme Faremo... Ovviamente ci faremo pubblicità tra di noi Ci daremo dei consigli E ci saranno anche altre cose che possono scambiarci informazioni E diverse cose che possono essere utili per noi Ovviamente non si tratta che da oggi in poi i nostri canali saranno collegati insieme E che lavoreremo tutti quanti nello stesso anno In modo semplice e chiaro I canali che si sono uniti in questo gruppo In cui ci saranno questo supporto tra di noi Ci sarà questo supporto Saremo tipo una famiglia In modo semplice e chiaro Ovviamente L'unica cosa di questo gruppo posso spiegarvi che Ci sarà pubblicità tra di noi Non tutti i giorni in questo caso Magari nientanto Se ci sarà un aumento di iscritti E altre cose Comunque ogni tanto Diciamo agli altri Guarda passate in questo canale Che potrebbe interessarvi Bene ragazzi Non è nulla di sbagliato Ovviamente anche per voi a questo punto Perché comunque è una nostra cosa È una nostra collaborazione Vogliamo lavorare in questo modo Ci sarà la possibilità che anche altri youtuber Si possono unire in questo gruppo Non è nulla di sbagliato Ovviamente saremo noi a dire Se è idoneo a unirsi o meno in questo gruppo Se dovesse essere ovviamente idoneo Non ci saranno problemi Che questa persona possa venire da noi Ovviamente l'idoneità sarà decisa da noi tre Perché comunque abbiamo delle regole per rispettare Altre cose che comunque Quando qualcuno vuole trovare e vedere Potrebbe ascoltare E d'accordo Si unisce Sono d'accordo Arrivederci Nessuno ha obbligato Comunque Noi vogliamo fare questa cosa Per aiutarci Tutti quanti Ovviamente in questo caso In questo video Io in questo istante Mi metterò qui I loro canali Ovviamente vi dico ragazzi Iscrivetevi anche voi ai loro canali Non è un obbligo in questo caso Semplicemente date un'occhiata Se magari vi interessa I contenuti che portano questi ragazzi Bene ragazzi Seguiteli perché sono anche loro davvero bravi Chi serve giocare nei suoi modi Chi ha comunque Delle specialità Nelle sue abilità Tra virgolette Di portare certi contenuti Comunque come avete visto Io in un certo senso Sono passato ormai da Dei gameplay semplici Delle live semplici A un modo di vedere I miei video Diverso Come avete visto In questo ultimo periodo Sto lavorando molto Sull'ironia Sullo far ridere Sullo scherzare Anche di inserire Quella parte Seria In cui spiego qualcosa Magari Ho capito che In questo caso Io sono Abbastanza portato Per questo tipo di video E non solo Buttarmi Sui semplici gameplay Io voglio fare Un certo lavoro Che spero Che venga apprezzato Comunque in questi giorni Ci saranno Diversi video Che parleranno appunto Di questi miei progetti Anche loro Questi ragazzi Hanno i loro progetti E io vi consiglio Vivamente Di seguirli In questo caso Non vuol dire Che in tutti i miei video Ogni volta dirò Seguite questi ragazzi Perché comunque Potrebbe anche dare fastidio Ed è giusto così Magari una settimana Posso parlarne Accennare di loro E vedere Se ci sono altre persone Interessate Quindi Non vedete Come una cosa sbagliata In questo caso Troverete Nel link Di descrizione I loro canali Sempre In tutti i miei video Perché comunque Questa è una Pubblicità normale In quel caso Che farò un video Una volta a settimana E comunque Una super pubblicità Se chiamiamo una cosa Tra virgolette Perché comunque Ne parlo Uno in descrizione Non va a vedere spesso In questo caso Parlando Una persona Si interessa di più Andare a guardare Questi canali Ragazzi Questo era tutto Ciò che volevo dire Non è nulla Spero di sbagliato Comunque Un progetto Che abbiamo creato Mettere insieme Gli ho dato il video A questa cosa Loro stanno aspettando Quindi vi dico Grazie per aver visto Tutto questo video Spero che Abbiate capito Ciò cosa voglio dire E ci vedremo Nel prossimo video Che non perdetevi ragazzi Ora si inizia a fare sul serio Ciao a tutti